Pattugliamenti, posti di blocco e controlli nelle aree di maggiore assembramento del centro Mamertino. Così i carabinieri della compagnia di Milazzo che nel fine settimana hanno intensificato i controlli su tutto il territorio di competenza, anche nelle ore notturne, con l'obiettivo di contrastare furti e rapine anche quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti e alle violazioni al codice della strada. Durante le verifiche alla circolazione stradale i militari hanno controllato oltre 120 veicoli e più di 190 persone, con la contestazione di diverse violazioni, tra cui l'utilizzo del cellulare alla guida, il mancato uso delle cinture di sicurezza e del casco protettivo, nonché guida pericolosa, condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni. Ancora in riferimento alla circolazione stradale, i carabinieri hanno denunciato 5 persone di età compresa tra i 30 e i 59 anni per guida sotto l'influenza di alcol, un 27enne per rifiuto di sottoporsi all'accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti o all'esame alcolemico, un 60enne per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e una donna 52enne per detenzione abusiva di armi. Inoltre, nell'ambito dei servizi antidroga, sette persone sono state segnalate alla prefettura, poiché trovate in possesso di modiche quantità di marijuana, cocaina e hashish detenute per uso personale. La droga è stata sequestrata e inviata ai carabinieri del RIS di Messina per le analisi di laboratorio. Grazie. 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 Grazie.